oggi sbustiamo un pacchetto di patatine di bing sempre della salata i preziosi collezione tutti i personaggi sono dei portachiavi con tutti i personaggi della serie anche sulla bing eccolo anche un altro bing in un altro movimento mentre sorpreso ecco lo è proprio quello sorpreso non si vede bellissimo è veramente veramente bello fatto veramente bene qui le solite salate preziosi non dare ai bambini da 0 3 anni e questo è il primo